È un bilancio che ha grandissime potenzialità. Queste sono le risorse che ha l'Emilia-Romagna di suo. A queste si aggiungeranno certamente quelle dei fondi strutturali, speriamo quelli del recovery plan e magari altre provvidenze di carattere nazionale. 12,5 miliardi di euro per affrontare l'emergenza, ma anche per costruire la prospettiva per l'Emilia-Romagna. Per questo c'è tanto e tante misure di vicinanza a famiglie, imprese, cittadini, ma anche tante misure per far sì che la nostra economia possa ripartire. Con le nostre risorse siamo pronti per ripartire, con quelle che arriveranno per fare un ulteriore salto di qualità. Intanto l'aspettativa è quella di arrivare a venerdì con i nuovi dati, con una regione che conferma un RT che si abbassa e che può entrare in uno scenario 1 addirittura. Questo è il nostro obiettivo. Il secondo elemento è semplificare un po' questi dati. Andavano bene nella prima fase un mese fa, oggi non riescono più a fotografare la situazione reale, quindi abbiamo dato un contributo tecnico anche come regione del governo per provare a semplificare un po' la geografia e la mappatura del Paese. In terzo luogo dovremmo essere insieme nel valutare quelle che sono le misure che possono permettere di tenere insieme la priorità, che è la sicurezza per il Paese insieme alla ripresa di una parte di attività economica e sociale.